Contatto di oggi mercoledì, anzi giovedì 3 novembre 2011, ritorno dopo una settimana di pausa legata a impegni lavorativi, al fatto che non ho ancora una connessione in questo locale, la connessione come ben sapete è importante per poter anche fare interviste, per poter anche mantenere pagine in internet che mi serve proporvi, quelle che oggi le ho salvate in un altro locale dove ho appunto la connessione, per cui a seguito di queste problematiche sono un pochino in difficoltà a mantenere questo impegno tutti i giorni, anche se ovviamente non cade questa intenzione, ossia di poter dedicare tutti i giorni un po' di spazio all'informazione libera, prendendo spunto da quello che scrivono i giornali, magari anche quelli esteri, però voi sapete che il mondo del giornalismo è così vasto che a volte diventa anche difficile fare rassegne stampa dettagliate anche dell'estero e poter essere anche costanti nel proporre vari titoli, quindi tutto è legato alla connessione, speriamo poi che una volta risolta questa non ho pagato tangenti al gestore, cosa che non farei mai, magari se l'avessi fatto non è detto che avrei ottenuto il risultato di avere la connessione, però insomma sono qui ancora ad aspettare, spero che mi possano connettere molto presto. Allora subito agli argomenti della settimana, ci eravamo lasciati con la lettera di Berlusconi, il famoso papello che Berlusconi ha portato alla Bruxelles per tentare di far credere, di darla a bere alla Merkel, alla Sarkozy, alla BCE e a tutti quanti sui programmi che appunto l'Italia avrebbe, il governo italiano avrebbe per recuperare il debito e quindi anche la credibilità, però i mercati come sapete hanno risposto negativamente, quindi la caduta delle borse ha provocato uno scossone, un consiglio dei ministri ieri sera dopo una settimana da quel famoso papello, un consiglio dei ministri di cui i giornali dicono sia stato all'insegna delle liti, delle divisioni, quindi nessun decreto, siamo in attesa anche di capire poi gli effetti e soprattutto che credibilità recepirà questo CDM, questo consiglio dei ministri e questa decisione presa a Cannes, dove oggi appunto inizia il G20, dove abbiamo già capito che non avrà nessun effetto pratico sui mercati, però nel frattempo in questa settimana i giornali hanno comunque scritto, hanno pubblicato cose secondo me assolutamente gravi per la credibilità di un paese che vedono e dimostrano con tutta la loro crudezza l'esistenza di questa loggia massonica, chiamiamola così, ormai è assodato, che viene cappeggiata prima da Bisignani che adesso ha patteggiato, sembra uscire fuori di scena e lavorava appunto in questo ufficetto di Roma e teneva i contatti con tutti, più che altro è questo la Vitola, è questo direttore dell'Avanti, il quotidiano socialista, che dimostra che ha avuto contatti con tutti, addirittura col numero due dei servizi segreti, un generale che si chiama Poletti, i giornali ne hanno parlato, in particolare il 1 novembre, tutti i giornali, i giornali, Repubblica, il fatto pubblicano queste intercettazioni agli atti, stralci, importanti, detenuti sicuramente determinanti e secondo me questo gioca, contribuisce, benché non se ne parli, benché si insistia sulle donnine, sulle oggettine, su altri argomenti, sono questi secondo me i rapporti ancora più gravi che determinano la poca credibilità del governo Berlusconi. In particolare vi cito solo un articolo che è apparso il primo di novembre a pagina 14, grazie per i documenti, ecco tutte le telefonate tra Poletti e la Vitola e quindi qui c'è una fitta serie di chiamate in cui praticamente nelle intercettazioni la Vitola e Poletti e poi tra la Vitola e Berlusconi, ricordiamo che poi la Vitola è entrato diciamo così nella rete delle indagini grazie ad altre indagini, cioè quelle che riguardavano un imprenditore abruzzese Spadaccini finito dentro per tangenti, quindi passando e spulciando queste intercettazioni i magistrati poi hanno scoperto quest'altro filone, hanno scoperto questa rete di rapporti che questo la Vitola aveva con Poletti, con Masi, con Berlusconi stesso e con Masi, direttore Rai, con il ministro Frattini, piuttosto che con la Prestigiacomo, cioè con tutto il governo, tutto l'esecutivo, la Vitola aveva questo rapporto diretto dove avanzava richieste, forzava finché Schifani anche al Senato ci fosse una presa di posizione per ottenere i finanziamenti del suo giornale Lavanti e quindi forzava con delle chiamate dirette questi personaggi senza contare poi la povera ex segretaria di Berlusconi, Marinella Brambilla che lo mandava spesso anche a quel paese e che non ne poteva più di sentire la Vitola che lo chiamava e chiedere di Berlusconi, però emerge questo rapporto, ma è molto grave che la Vitola abbia rapporti col numero due dei servizi segreti italiani che teoricamente dovrebbero lavorare solo a tutela della democrazia e per cui lavorare contro forze esterne possibilmente, ma non che se la facciano con un massone iscritto al Grande Oriente d'Italia come la Vitola che adesso è latitante a Panama consigliato da Berlusconi, capite che emerge chiaro questo stato parallelo illegale, non riconosciuto alla fine, che ai mercati non sfugge, che all'estero non sfugge, che alla Merkel non sfugge, benché qui in Italia finisca a pagina 14. Vediamo velocemente qualche conversazione. Venerdì 21 ottobre 2009, la Vitola ha fissato da poco un appuntamento col Premier per venerdì 23, quindi due anni fa la Vitola dice Paolo, Poletti risponde, eccomi la Vitola, buongiorno Poletti, buongiorno a te, la Vitola, Paolo io spero di poter fare la verifica di quei documenti che tu mi hai dato venerdì, ti ringrazio perché sono ovviamente perfetti, due giorni prima, cioè il 21, Poletti alla Vitola dice vieni subito, ma quando Poletti consegna questi documenti di cui i due parlano, si chiede il giornale, una traccia e forse qualcosa di più è la telefonata di due giorni prima, cioè il 19 ottobre, quando il generale chiama la Vitola e lo convoca d'urgenza, il generale è Poletti e dice Poletti alla Vitola, puoi passare da me subito la Vitola, sì Poletti ci vediamo a Piazza San Silvestro davanti alle poste, Piazza San Silvestro è a Roma, a fianco a Palazzo Chigi e di fronte a Palazzo Marini dove ci sono tutti gli uffici dei vari deputati, quindi è il centro della città, che documenti sono questi, se non quelli legati all'indagine di Berlusconi che però riguardavano Tarantini che venivano da Bari, perché in quel periodo di quello si parlava, cioè di questa protesi di Berlusconi che portava le escort, che portava la droga in Sardegna, non è mai stato provato che la droga arrivasse direttamente nelle case del Premier, anche se una delle oggettine o delle presunte tali, una di Reggio Emilia, aveva dichiarato di aver assistito a dei bunga bunga di sesso e droga, questo ragazzo di Reggio Emilia di cui mi sfugge il nome, una delle tante testimoni poi minacciate di querela, su e giù, non so bene a che punto sia l'inchiesta da questo punto di vista e quanto di buono abbiano tenuto conto i magistrati nel filone che riguarda la prostituzione, comunque in quel periodo Berlusconi si scopriva che aveva rapporti con Tarantini, Tarantini a sua volta è indagato per la truffa alla sanità in Puglia, per cui siccome c'era paura che Berlusconi fosse coinvolto in questa storia, la Vitola si preoccupava tramite Poletti, cioè tramite il numero 2 dei servizi segreti di ottenere dalle procure questi documenti di indagini da dare alla Vitola che quindi passava in mano a Berlusconi o forse ai suoi avvocati per capire come erano le indagini. E questo denota un paese corrotto, cioè se un generale che giura su fedeltà alla Costituzione, fedeltà allo Stato, se la fa con un massone, con uno della cricca e gli passa i documenti e ha questa confidenza al telefono, voi capite che il paese non c'è più, è un paese farlocco questo e questo è un aspetto gravissimo di cui tener conto e che i mercati secondo me tengono conto ma soprattutto all'estero, ecco i sorrisini tra Sarkozy e Merkel, cioè noi forse sottovalutiamo questa gente ma lì c'è chi li informa ogni giorno di quello che emerge dai giornali, cioè Repubblica la leggono tranquillamente come noi vediamo il Financial Times, vediamo i vostri giornali, loro vedono sicuramente Repubblica, il Corriere, cioè i giornali nazionali li guardano e anche le informazioni che arrivano in Internet e questi governanti vengono informati, la BCA è informata di queste cose, di questi rapporti che i giornali svelano che riguardano Berlusconi. e qui ci sono appunto una serie di intercettazioni che parla di incontri e vi consiglio di recuperare questo articolo se potete a pagina 14 del primo di novembre, io non mi dilungo anche perché sennò poi la puntata diventa troppo lunga, voglio arrivare ai giornali di oggi e vedere quindi cosa scrivono sostanzialmente in prima pagina. Il Corriere, lite nel governo, misure senza decreto, tensione con Tremonti, lira di Calderoli, serie una terapia d'urto, liberalizzazione e dimissioni, incentivi ai giovani, mobilità degli statali, lì si trova, uno dice dimissioni, invece è dismissioni, ecco, dismissioni, quindi potrebbe trarre in inganno questa parola, cioè dismettere tutto quello che è dello Stato e mettere in vendita, però di queste dimissioni che il mondo attende, nessuna traccia di Berlusconi che continua a rimanere lì e nessuna traccia di Napolitano che in qualche modo sciolga le camere. Ieri voleva verificare la tenuta del governo, ma cosa ha verificato? Quanto tiene il governo? C'è questa lettera adesso che emerge, questa richiesta ufficiale di sei deputati, anzi il Repubblica dice sei, il Corriere dice dieci, tant'è che proprio il Corriere oggi mette a pagina dieci, pubblica questa lettera che spero di poter trovare qui, qui non c'è, qui c'è la prima pagina di Repubblica, un attimo solo che vado a recuperarla, che l'avevo tra le tante pagine che avevo preparato, qui c'è il G20 del fatto, insomma c'è una lettera pubblicata dal Corriere oggi che è a firma di questi deputati che chiedono a Berlusconi di dimettersi, tra di loro c'è Stracquadagno e c'è anche Pittelli che come sapete ha indagato in Calabria per aver corrotto, per corruzione dell'ex procuratore di Catanzaro Mariano Lombardi nella vicenda della sottrazione delle inchieste a Luigi De Magistris, eccola qui la lettera, servono una diversa fase politica e il varo di un nuovo esecutivo, eccoli qua che si svegliano questi deputati, la firma è di Roberto Antonione, sapete che Roberto Antonione era candidato sindaco a Trieste che ha perso clamorosamente contro Cosolini, ha a che vedere anche con la Triestina, insomma evidentemente adesso si vendica un po' del fatto che ha lamentato fratture interne al PDL per cui non essendosi sentito sostenuto dai suoi compagni in qualche modo si vendica forse così, quindi sfiduciando Berlusconi, poi Isabella Bertolini, Giustina Destro che ultimamente appare molto nelle TV e anche intervistata alle radio, Fabio Gava, cognome molto familiare all'epoca di Antonio Gava, democristiano che ricorderemo assieme ai Poggiolini e assieme ai Forlani per la vicenda di Tangentopoli e poi appunto Giancarlo Pittelli che è quel senatore cui vi dicevo poco fa indagato in Calabria e Giorgio Stracquadagno che non ha bisogno di molte presentazioni, l'abbiamo visto e conosciuto ad anno zero in quei memorabili interventi a difesa di Berlusconi. Dunque cosa dice questa lettera? Dice il signor Presidente del Consiglio, la vigilia delle decisioni cruciali per l'Europa e per l'Italia, rivolgiamo a lei un ultimo accorato e amichevole appello perché gli impegni che lei ha assunto nel suo ruolo di titolare della responsabilità di governo a nome dell'Italia e siano immediatamente realizzati. Come ha richiamato il Capo dello Stato nella sua nota di martedì, anche noi siamo convinti del fatto che l'Italia può contare su un ampio arco di forze sociali e politiche consapevoli della necessità di una nuova prospettiva di larga condivisione delle scelte dell'Europa. Che l'Europa, l'opinione internazionale, gli operatori economici e finanziari si attendono con urgenza. Siamo convinti che lei, che la legittimazione della guida del governo, ma non dell'esecutivo nel suo insieme, nasca dalle urne attraverso la libera espressione del voto popolare. Quindi questi deputati sostanzialmente chiedono un passo indietro a Berlusconi e chiedono le elezioni. Senza contare che a questo si unisce la presunta dichiarazione di Paniz, Maurizio Paniz, streno difensore delle leggi vergognose di Berlusconi, un avvocato ricco di Belluno, che è un po' una sorta di Longo e Ghedini parcheggiato un po' più a nord rispetto a Padova e che però si è molto speso, insomma ha molto speso la sua faccia per difendere Berlusconi e adesso dice che si dissocia e chiede il passo indietro. Bisogna capire poi cosa c'è dietro queste decisioni, perché abbiamo capito che è la vitola che manda avanti il paese. E la lettera continua, della sua opera l'Italia intera non può che esserle grata. Lodo Alfano, tutela degli evasori fiscali, falso in bilancio, tutte le leggi vergogna, tutto quanto, quindi sono sicuramente grati. C'è una parte del paese certamente che è grata a queste leggi che si può permettere di evadere il fisco, le varie corporazioni che hanno potuto chiudere e blindarsi dalla concorrenza e mantenere i loro posti e posticchi. I tassisti sono solo un esempio. Tutti noi abbiamo sempre sostenuto con entusiasmo e convinzione la sua azione politica nella certezza che il suo progetto di modernizzazione del paese fosse prima ancora che condivisibile necessario per portare l'Italia fuori dal baratro del crescente debito pubblico a cui il sistema dei partiti della cosiddetta Prima Repubblica ha condotto l'Italia che oggi rappresenta il primo dei problemi. Quindi danno colpa a Craxi, all'epoca fino di Craxi e come dire, tu in 17 anni ti sei impegnato affinché questo debito pubblico non aumentasse in realtà con Berlusconi e con i governi complici di D'Alema e la breve parentesi di Amato, a parte Prodi che è stato sfiduciato da Mastella che è stato comprato da Berlusconi che poi l'ha spedito in Europa, insomma a parte Prodi va detto comunque tutti i governi in questi 17 anni hanno sostanzialmente lavorato per lui. Quindi il debito pubblico non ha fatto altro che aumentare. Berlusconi ha una grande responsabilità ma qui questi impostori lo mentono in questa lettera pubblicata dal Corriere. Lei come ciascuno di noi nel nostro quotidiano lavoro di deputati è consapevole del fatto che la base di consenso parlamentare dell'attuale esecutivo è del tutto inadeguata a realizzare la difficile agenda di impegni sottoscritti di fronte alle istituzioni sovranazionali europee, al Parlamento e al popolo italiani. Lei come ciascuno di noi è consapevole del fatto che l'attuale esecutivo è inadeguato al difficile compito anche a ragione delle insanabili divisioni strategiche che lo attraversano. Questi deputati non hanno avuto la fortuna o le promesse di Scilipotti di avere in più poltrone o che avranno anche la consapevolezza di rischiare di non essere rinominati in caso si andasse a elezioni. Però chiedono queste dimissioni, questo passo indietro, ben sapendo che alla fine questo passo indietro difficilmente ci sarà, lo costringeranno magari Merkel e Sarkozy così questo G20 che comincia potrebbero costringerlo a dimettersi. Per questi motivi le chiediamo di assumere un'iniziativa adeguata alla situazione, sia promotore di una nuova fase politica e di un nuovo governo che abbia il compito da qui alla fine della legislatura di realizzare l'agenda degli impegni sottoscritti con i partner europei e con essa le indicazioni venute all'Italia dalla Banca Centrale Europea, da lei opportunamente interpellata alla scorsa estate. Qui non si parla di uscire dal Parlamento, si parla di fare il passo indietro, fai finta di non fare più il capo, mettiamoli letta, mettiamoli uno dei tuoi burattini, a far finta di fare il capo del governo tu ti fai da parte, hai meno visibilità e noi rimaniamo qui fino alla fine della legislatura anche con un governo riconosciuto dagli italiani, però l'importante è che noi maturiamo la pensione, ce ne stiamo qua e portiamo a casa il nostro stipendio. Questo dicono questi paraculi deputati del centrodestra. Siamo convinto che così facendo potrà rispettare il mandato delle elettorali, gli impegni assunti con l'Europa e portare l'Italia fuori dalla crisi del debito, come in altri momenti decisivi della sua storia politica, lei ha l'occasione di agire da uomo di Stato, quale noi siamo convinti che lei sia. Agisca subito nelle prossime ore, unisca il Paese in un impegno straordinario all'altezza dei problemi, in quel caso, e solo in quel caso noi la sosterremo con la determinazione e l'abnegazione di sempre. Questo gli va riconosciuto perché questi deputati ne hanno vendute di facce per difendere l'indifendibile anche nelle trasmissioni. Io che ho calcato molto anche le trasmissioni, mi rendo conto che non è mica da tutti difendere Berlusconi e trovare anche gli argomenti per difenderlo, quindi gli stipendi va riconosciuto questo atto eroico e sicuramente gli stipendi e magari qualche favore, qualche bonifico vanno a compensare il tutto. Il Fatto quotidiano di oggi apre con Berlusconi alle corde, si spacca il PDL un giorno di panico, Renzi investe, l'editoriale di Travaglio che a quanto pare parla di Renzi ma non l'ho letto, quindi risparmio analisi, poi sostanzialmente analisi del fatto anche da parte sua della crisi, questo G20 che viene annunciato oggi e che comincia dunque a Cannes e poi un articolo sul PDL con i suoi signori delle tessere Alemanno, Formigoni, Cesaro, Cirielli, ecco chi ha vinto, dunque tutto questo sottobosco del PDL che in qualche modo cerca di farsi spazio, di sgomitare per sostituire Berlusconi alla guida del PDL, poi a volte mi chiedo ma questi partiti avranno ancora davvero vita lunga? Siamo sicuri che il fatto che il PD in Molise ha preso il 7% e Grillo il 6% qualcosa davvero non stia cambiando? E poi si parla ovviamente di Santoro che comincia con questo programma che è il debutto di servizio pubblico fra crisi, casta e feste di Berlusconi, con circa 100 mila donatori che hanno investito questi 10 Euro, che totalizzano circa un milione di Euro, col quale insomma auguro a loro di poter fare un buon lavoro, anche se io francamente mi aspettavo numeri ben diversi per una trasmissione, a meno che sulla carta valeva 5 milioni, 6 milioni di spettatori, 100 mila sono il 3%, 5% di sostenitori di questo progetto. Non lo so, mi lascia molto perplesso questa adesione secondo me scarsa, meritava sicuramente di più, magari arriverà col tempo. Comunque tanto per chiudere, ovviamente Can, Italia, default, governo senza soldi, regioni che devono fare i conti con i tagli e i comuni e Milano siccome è la guida dei comuni in qualche modo anche politici, delle strategie, da quello che accade a Milano si capisce poi che riflessi avranno gli altri comuni, che riflessi avranno poi le varie decisioni negli altri paesi. Ebbene oggi, uno dei tanti titoli, ma qui siamo davvero ormai alla canna del gas, sul Corriere Milano c'è a pagina 2 un intervento di Pisapia che dice deroga al patto di stabilità, ossia dobbiamo creare un'eccezione al rispetto di questa legge che non ci consente di usare dei fondi che abbiamo accantonato, opere di Expo a rischio. Dunque, benché si sia annunciato che Expo, i cantieri sono stati aperti e che quindi entro il 2014 sarà tutto pronto, opere di Expo a rischio significa che l'Expo, per come era stato annunciato, è già stato ridimensionato a una sorta di sagra del salame, non sarà più forse, sarà anche un bene non cementificare tutta quella zona alle spalle del carcere di Bollate, però insomma si era molto puntato, hanno fatto anche delle campagne elettorali su questa struttura Expo 2015 e oggi senza soldi, senza fondi, Tremonti che non ha mai voluto sapere di Expo, ecco che Pisapia arriva come sindaco di Milano a mettere in guardia, appello bipartisan, la Lega, siamo con lui, quindi siamo con Pisapia, dunque anche la Lega sa che di soldi non ce ne sono più e dunque comincia ad appoggiare questo provvedimento della sinistra e poi l'assessore Tabacci che dice il comune prepara la stangata, Tabacci già al lavoro, taglia le spese ma in arrivo ritocchi alle tasse, benché nonostante le promesse fatte in campagna elettorale, anche se io davvero avendo anche preso parte questa campagna elettorale non ho mai sentito Pisapia dire diminuirò le tasse di Milano, semmai ha detto che cercherò di non aumentarle, poi una volta insediato, siccome sindaco, una volta varata la giunta, una volta cercato di far restituire Maran, il suo assessore al traffico perché sarebbe stato il pupillo di penati, hanno fatto un po' di sporcherie di questo tipo, alla fine hanno aumentato il biglietto del tram, quindi da 1 euro 1,50 euro, costa esattamente come a Genova, però gli abbonamenti non sono aumentati, quindi era inevitabile che di fronte a un bilancio comunale come Milano che deve quadrare, di fronte al fatto che di trasferimenti dallo Stato non ce ne sono, una struttura esiste e allora chi governa deve prenderne atto e aumentare, però dire prepara la stangata è un po' diverso, quindi Tabacci dice che per il nuovo anno già previsto un disavanzo di 400 milioni, cioè vuol dire il Comune di Milano apre il 2012 con 400 milioni in rosso che dovrà recuperare, vuoi le multe, vuoi l'Ecopass anche per le auto a GPL, secondo le quali oggi ci sarebbe un altro anno di deroga per cui le auto a GPL potranno entrare nella cintura di Milano senza paga di 5 euro nel centro della città, vuoi i biglietti del tram, vuoi i gabelle come a Roma che c'è la tassa sul turismo, paghi 1 euro o 2 euro per ogni notte che stai anche nel bed and breakfast, ci sarà qualcosa, dovranno inventarsi, però il segnale è chiaro, lo Stato è già fallito, i comuni come vedete provvedono autonomamente a sessori e sindaci ad avvisare la popolazione, non preoccupatevi, gli aumenti ci sono, i soldi ci servono per cui dobbiamo fare noi governo della città, ecco i primi esperimenti del federalismo della secessione famosa di cui parlavo, di stati che non tengono più, di una economia che è già fallita, segna già le sue crepe, per cui ogni Comune dovrà pensare per sé, a prescindere da quello che decide il governo nazionale. Questo in sintesi e poi in chiusura questo papocchio, il Quirinale, che chiama a rapporto Casini, che francamente vale, adesso vale molto meno di Grillo, diciamocelo chiaro, il Movimento 5 Stelle sta aumentando e sta erodendo voti a Italia dei Valori, al Partito Democratico, all'Udc e sta riportando qualcuno anche alle urne. Quindi davvero è arrivato il momento forse di una verifica e di portare qualcuno di nuovo, anche se io di Mattia Calise sento parlare poco sui giornali, dovrei vedere un po' cosa sta facendo in Comune, però ho sentito Grillo che ne ha parlato, a quanto pare bene, i giornali fanno il loro lavoro, parlano di ciò che preferiscono e quindi offuscano magari le nuove leve emergenti. Però insomma, al di là di questo, il segnale è molto chiaro. Cosa ci fa Casini al Quirinale con Bersani a verificare cosa? A chiedere appoggio a Berlusconi? Cioè Napolitano, da chi è ricattato, mi chiedo io, perché non scioglie le camere? Chi lo obbliga a mantenere questa situazione? Tutti questi burattini che hanno fallito il loro mandato? Cioè perché Napolitano non ha fatto la fine di Leone degli anni 70? Io ero bambino ma mi ricordo, mio padre ne parlava di Leone e insomma era, si era capito che era un personaggio sporco, no, almeno qui in Lombardia, per cui era sceso, già si vedeva all'epoca Andreotti come un mafioso, tutti dicevano Andreotti, mamma mia, omicidio Pecorelli, cioè già in quell'epoca lì, era forse ancora peggio per certi aspetti in quegli anni, eppure c'erano le dimissioni, era peggio perché la TV era solo una, internet non esisteva, ci si doveva solo fidare di quello che raccontavano al TG, una TV controllatissima e super castigata, per cui non c'erano alternative, ma gli italiani non erano scemi, i principi li avevano, i valori li avevano e quantomeno capivano, sapevano dare un'interpretazione ai fatti. E Leone si dovete dimettere, Napolitano cosa fa ancora lì, davanti alla vitola che se la fa col numero 2 dei servizi segreti? Capite che noi siamo un paese fallito, anche per questo motivo, un paese che non ha più niente da dire e che dovrà fare i conti certamente con questo G20 che non porterà assolutamente a novità e io dico i mercati potranno riprendersi soltanto se Berlusconi si dimette e si tornerà a Leone, non ci sono alternative perché non c'è solo Berlusconi da accantonare, ci sono Iletta, Gialfano, tutti questi burattini attorno che non hanno nessuna credibilità e io mi auguro davvero stavolta che il Movimento 5 Stelle possa, e lo dico davvero con grande onestà, io essendo stato candidato con l'IDV in passato e non mi candidero più perché tantomeno con 5 Stelle perché ovviamente col passato che ho sarei già incompatibile giustamente perché bisogna avere un trascorso senza iscrizione ai partiti, cosa che ho sperimentato per un periodo, però non mi interessa, io ho fatto il mio corso, non ho nessuna intenzione di ritornare in politica, mi auguro anzi che molti giovani possano davvero continuare sulle orme di quelli che già sono stati eletti, di quelli che già sono tagliati gli stipendi, di quelli che già ci mettono la faccia per prendere provvedimenti e parlare di argomenti seri e che vengono censurati dai giornali, c'è tutta una serie di segnali per cui bisogna dare atto, la rete ha dato il suo contributo perché il blog di Grillo è solo grazie al suo talento di comunicatore, di grande efficacia di comico, nonostante le sue piccole contraddizioni, però gli va dato anche atto dell'efficacia, dello strumento, quindi anche convinto una buona parte dell'elettorato giovane che in rete non si lascia ovviamente bindolare dalle cazzate che raccontano a Roma e dunque tutto questo è un antipasto per capire che se si va a elezioni qualcosa dovrà cambiare davvero, si spiene insomma senza brogli e senza che poi ci si debba imbattere in nuove inchieste come è già stato per il governo Prodi, come saprete diverse inchieste erano partite per far luce sui voti falsi e sulle piromalli che hanno stati addirittura incolpati in Calabria ad aver falsificato delle schede a favore del centro-destra dove vediamo hanno coinvolto in qualche modo anche Dell'Utri, inchiesta di cui non ho più saputo nulla o l'altro senatore di Girolamo eletto con 25 mila schede false con il clan degli Arena che hanno portato voti al centro-destra anche se a fini però insomma andato questa maggioranza bulgara, ecco tutte queste sporcherie che anche qui dovremmo fare un passo avanti, cercare non solo di obbligare i cittadini a fornire la mail all'agenzia delle entrate a sto punto ma di obbligarli anche a votare in rete, in maniera che un clic, un voto e quello è e allora secondo me magari anche dichiarato e sistemeremo tante belle cose e magari scoraggeremmo sicuramente il voto di scambio o quantomeno scoraggeremmo tutti quei delinquenti che in qualche modo cercano di falsificare il voto per dare ovviamente sempre potere a chi in realtà il potere non ce l'ha ma se lo tiene solo per blindarsi dalla giustizia. Grazie a tutto, spero di rivederci davvero molto presto, non voglio dilugarmi oltre e la connessione la sto ancora aspettando, giuro che non pagherò tangenti a nessuno, a presto!